Piccolo, spazio, pubblicità, radio, super-sferio radio. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se la radio è libera, ma libera veramente, la amo ancora di più, perché libera la mente. Chiedo scusa intanto perché ho massacrato due capolavori, uno di Vasco Rossi e uno di Eugenio Finardi, ma l'argomento di oggi è la radio. Video killed the way the old star. Ma questo era già un po' quello che succedeva negli anni Ottanta, quando arrivò il video, il video fece tremare la radio. E oggi parliamo della radio in questo video che non è uno sfogo, però un po' sì, perché a me le radio non piacciono, non mi piace niente. Poi ho anche amici che fanno gli speaker, persone per bene, superqualificate, che curano programmi belli, eccetera, ma sono eccezioni alla regola. Perché la radio, per sua stessa definizione, contraddicendo completamente quello che cantava Eugenio Finardi in un brano capolavoro, la radio non è libera per un cazzo. Dov'è che la radio è libera? La radio è libera per i creduloni, la radio è libera per quelli che... Per il cosiddetto burlesi c'è pesce boccalone, cioè pesce che abbocca, no? Abbocca a ogni esca, anche a quella più... Che c'è, poi abbocca a ogni esca così. Però la radio, le radio, che sono state in grande crisi, forse adesso sono un po', stanno un po' recuperando, così ci sono fatte venire un'idea geniale. Hanno detto, beh, insomma, non ci caga più nessuno, siamo un po' così, un po' alla deriva, quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che fare delle playlist che sono la coppia a carbone di quelle che fa Spotify. Un'idea geniale, no? E la radio, la radio, per sua stessa definizione, dovrebbe in un certo qual modo... Adesso sto chiedendo, ho capito, Umberto Eco che mi parla tutti i giorni, Galimberti, non ho questo tipo di pretese, però la radio dovrebbe, nella mia testa, avere anche una piccola funzione educativa. Non fosse altro in quanto è figlia di un gruppo editoriale che dietro dovrebbe avere un pensiero, un'ideologia. Adesso l'ideologia è una parola troppo grossa, è tipo come se adesso dicessi la parola intellettuale. Deriva da intelletto. Perché non mi piace la radio? Non mi piace la radio, primo, perché non mi posso scegliere la musica. E questa è una cosa gravissima. Ma poi molti di voi si lamentano del fatto che Spotify Premium, che sarà la merda nera, è vero, però anche se dovete pagare, almeno vi potete scegliere quello che ascoltate e non vi dovete sorbire per forza quello che Spotify vi propina, le canzoni che per forza loro mettono in tutte le playlist editoriali. Però pagate, ma avete quello che volete. Cioè, non lo so, volete ascoltare Keith Jarrett? Meraviglioso. Cioè, volete ascoltare John Coltrane? Benissimo, c'è pure lui. No, ascoltiamo gli stili di idea. No, ottimo, ci sono anche i Beatles. C'è pure Lucio Battisti, c'è De Gregorio, c'è Lucio Dalle. Cioè, pagate, ma avete. No, invece in radio non paghi un cazzo, non paghi niente, però ma che cosa ti devi sorbire? Io non so come fate. Adesso chiaramente non sto parlando a tutti. Io qua devo per forza generalizzare. Poi c'è qualcuno che mi scrive, magari sotto nei commenti, eh ma io la radio non l'ascolto come te. Ho capito, se non l'ascolti come me sono contento. Almeno siamo in due. Però non è quello che voglio far passare come messaggio in questo video. Quello che voglio far passare come messaggio in questo video è che se la musica versa in condizioni, diciamo così, critiche e siamo appesi, non lo so, a che cosa? Ad amici, a X-Factor, sperando che esca un nuovo talento, un nuovo, non faccio neanche nomi, ma insomma uno di quelli che hanno fatto la storia della musica. Oppure siamo appesi al Festival di Sanremo, sperando che Amadeus abbia scelto bene, abbia scelto canzoni molto belle, che poi abbiano una minima possibilità di restare. E le radio che cosa fanno? Le radio fanno delle playlist che sono chiaramente commissionate, perché voglio dire, se non l'avete capito e ora che vi diate una svegliata, poi sono tutte hit radio. Cioè, so come dire, è come ascoltare sempre la stessa radio, più o meno sempre con gli stessi speaker. Poi qual è un altro problema? Un altro problema è che oggettivamente a me gli speakers non fanno ridere. Ma per niente. Poi ce ne sono alcuni bravi, eh? Lo so, cioè, chiaramente non può, cioè, Linus è un uomo intelligente con una cultura musicale eccezionale, quindi lo ascolto volentieri. Faccio un altro nome, Massimo Cott, come fai? Cioè, stiamo parlando di gente che ha una cultura musicale sterminata e un'intelligenza profondissima ed è abituata ad usare l'intelletto in senso buono. Però sono eccezioni, perché per il resto io continuo a sentire, le poche volte che sono costretto, perché sono ad esempio in macchina con amici o comunque, non lo so, cioè accendo la macchina e mi va sulla radio e sento delle robe veramente, le invasioni barbariche, capito? Comicità triviale. Com'è che diceva De Gregori? Un attimo, faccio una pausa che devo prendere un appunto. Francesco De Gregori cantava in una canzone stupenda, che si chiama il povero a me, diceva cammino come un dissidente, come un deragliato, come un desertore, sentite che linguaggio, madonna mia che bravo, senza nemmeno un cappello o un ombrello ad aprire, ho il cervello in manette, provate a scrivere una roba così, poi me la mandate e vi dirò bravissimi. Dico cose già dette e vedo cose già viste, ma qui viene il bello, quello che volevo sottolineare. I simpatici mi stanno antipatici, i comici mi rendono triste. È un po' quello che provo io quando ascolto la radio. Cioè i simpatici, ma quelli che vogliono fare simpatici a tutti i costi, i comici mi rendono triste, ma non quelli bravi perché, ad esempio, io ho visto uno speciale da Fazio dove c'era la Jalapas Band, cioè quelli mi fanno ridere sempre. Se io ripenso alla storia di mai dire gol, mai dire tv, con tutti, per voi non sono comici, quelli che sono attori che sono anche comici. Cioè lì parliamo di gente che ti fa ridere davvero, ma io alla radio sento quasi sempre gente che dice battute triviali, scontate, roba già sentita, e in più mi devo sorbire della musica, detto che aveva detto, insomma, che non è di mio gradimento. Quindi quando voi dite, beh beh, ma devo comprare, devo fare un abbonamento a Spotify, devo comprare Spotify, oppure devo fare un abbonamento a YouTube o ad Amazon Prime, quello che volete, c'è anche Tidal che costa di più, ma è, ripeto, ad alta qualità. Ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Perché pagate, ma avete. Ma non sarà meglio pagare per avere una cosa buona che non pagare niente per sentire della monnezza? Che tra l'altro non l'avete nemmeno scelto voi, però non fate neanche la fatica, non lo so, c'è ancora, come si chiama l'RDA, quella roba che ti cerca da sola la stazione migliore. Cioè c'è sempre lì che, io mi ricordo le poche volte che ascoltavo la radio, ero sempre lì che cercavo qualcosa che, non so, destasse la mia attenzione, ma ero sempre lì, cioè mi consumavo il dito, mi veniva nicalli più a spingere il pulsantino della ricerca di un brano carino, più che a suonare la chitarra. E questo non va bene. Poi non lo dice quasi nessuno per i soliti motivi, per i motivi di convenienza, perché parlare male delle radio vuol dire che poi dopo, ho capito, ma insomma, ma poi non passano la canzone, eccetera, eccetera. Ho capito, ragazzi, ma la canzone, cioè a parte che io scrivo canzoni che in radio ci vanno comunque, quando chiaramente le canzoni hanno un successo e una notorietà, ma detto questo, cioè dobbiamo sempre stare zitti, cioè bisogna sempre tacere, cioè tutti che se la prendono, con tanti che se la prendono con i Mineskin che hanno successo, ma non lo so, tanti altri che se la prendono con la trap, se la prendono con i rapper, ma chi cazzo li trasmette questi qui? Io? E non faccio nomi, non dico RTL, RDS, 105, cioè queste cose qui, perché tanto passano tutte le stesse canzoni e hanno tutti più o meno speakers che vogliono fare i simpatici, dove la simpatia è una roba che o ce l'hai o non ce l'hai, hai capito? Non è che diventi simpatico, perché poi c'hanno anche gli autori adesso che gli scrivono le battute, non se gli scrivono neanche più da soli. Una volta, quando Vasco, Finardi, Finardi scriveva alla radio e libera, la radio è libera veramente, ma era libera davvero, perché io ho lavorato in una radio, non vi dico quale, però era una radio che poi oggi è diventata, non so, anzi ve lo dico, la più importante in Italia, ma era piccolissima, erano gli albori, ma io mi sceglievo, io arrivavo lì con i miei CD oppure con i miei vinili e poi dopo chiaramente la radio aveva il solito, potevi scegliere tra quelli che c'erano lì negli scaffali, ma era una cosa diversa, cioè a me non piace subire, non mi piace, non mi piace giocare in difesa, mettermi lì come dicevi, chi è che lo diceva? Non lo so, non mi ricordo più, Antonio Conte, mettiamo un pulmo davanti alla porta, no, mi piace giocare a pallone, mi piace giocare all'attacco, mi piace creare delle azioni, subire non va bene, a meno a me non piace, poi sembra che invece a molti di voi piace perché le radio comunque anche e soprattutto in macchina le ascoltate, i giovani secondo me non li ascoltano più, però tanti, anche quelli che hanno abbandonato i CD, non li hanno più comprati, hanno detto beh no costavano troppo, alla fine si sono ridotti ad ascoltare la musica alla radio, capito? E questo è un po' il risultato, quindi piangere sul latte versato, che è un proverbio che non è mai andato giù di moda, non è una cosa intelligentissima, detto questo, il significato, il valore, ammesso che ci sia un valore nel fare un video come questo, per l'amore del Signore, diciamo che questo video non ha alcun valore, è solo una brevissima riflessione su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, se potete, soprattutto se volete fare musica, sceglietevi la vostra musica, scegliete la musica che vi piace e non subitela, perché subire non è mai bello, il lato ironico di questa cosa è che mentre io sto facendo questo video, mentre sto registrando questo video nel mio studio, in realtà le radio stanno trasmettendo impertare te, quello che vogliono, e quindi non gliene importa un cazzo di quello che dico io, ma nemmeno di quello che dite voi, però, però lanciare dei piccoli segnali, dei piccoli fuochi d'artificio, delle luci nella notte, un po' alla volta, magari, magari, vi porta a fare una riflessione, e, detto tra noi, lo scopo di questo video, è questo, cioè, riflettete un attimo, non sarà meglio, scegliervi la musica che vi piace, non sarà meglio ascoltare, quello che vi piace, piuttosto che subire, quello che vi propone, questa radio, o quella radio, fate due riflessioni, lasciate un commento, se ne avete voglia, mi fa sempre molto piacere, sto rispondendo, a molti dei vostri commenti, chiaramente nel tempo che ho, iscrivetevi a questo canale, ringrazio, le numerosissime persone, che si sono iscritte ultimamente, una cosa che mi ha, veramente meravigliato, se vi va, seguitemi su Instagram, i link sono qui sotto, in descrizione, dove faccio dei reel, chitaristici, parlo, ogni tanto pubblico, anche qualche piccola poesia, qualche piccolo aforismo, e se vi va, ascoltate anche, la mia musica, quella dove canto io, comunque ho fatto duetti, con altri artisti più popolari, di me, su Spotify, sempre, c'è il link qui sotto, vi mando un grande abbraccio, e ci vediamo, presto, la prossima volta, domani, dopo domani, non lo so, ah, sto procedendo, con le valutazioni del contest, quindi, come diceva uno, bravo, non andate via.